Ciao ragazzi, benvenuti ben ritrovati su mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Clash Royale oggi vi volevo proporre la sfida Gran Cavaliere, visto che è anche gratuita e visto che ultimamente mi sto dando un pochettino più da fare per portare su le carte infatti come potete vedere ho cambiato alcuni personaggi, sto utilizzando anche l'orda di sgherri pare che stia andando un pochettino meglio, però chi può dirlo, mi raccomando come al solito vi invito come sempre a mettere un bel piaccio in su, un bel mi piace se ancora non l'avete già fatto e soprattutto dateci dentro con i consigli perché vi dico la verità mi state aiutando veramente tantissimo detto questo non ci vediamo in 30.000 chiacchiere e volevo quindi affrontare questa sfida che personalmente ancora non abbiamo e dobbiamo vedere un po', ah ok, quindi non partiamo con un deck, quindi dobbiamo costruire anche il nostro deck wow, fantastico, allora il cavaliere me lo prendo perché lo sto utilizzando anche io e dico la verità mi ci trovo abbastanza bene, allora chi possiamo prendere? utilizzerei a questo punto anche potremmo mettere per esempio, no, questo non, sì, sto utilizzando più o meno il deck che utilizzo io lo stregone di ghiaccio potrebbe andare bene, però a questo punto ci conviene becchiare quella di livello 7, non so se a questo punto utilizzare anche un deck pesante voglio andare un pochettino più sul sottile perché spesso e volentieri ci attaccano e anche in malo modo allora opterei, opterei sono un po' indeciso oggi perché ho paura di fare male vediamo un pochettino, anche perché stiamo abbastanza salendo ci becchiamo la tronco e vediamo come va, almeno la prima partita non sono ancora tanto convinto, però vediamo, buona fortuna e grazie allora vediamo un po' se ci conviene tipo vedere come andiamo però è carino visto dall'altro, andiamo subito uguale, fantastico vediamo se ti riesco subito a becchiare ok, fantastico, noto con piacere che a te è andata un pochettino sicuramente meglio noi abbiamo sbagliato a questo punto mentre tu attacchi dall'altra parte ok, penso di essere andati abbastanza male visto che lui adesso già ci butta giù l'altra torre e porca miseria siamo andati direi abbastanza male ho utilizzato le mie carte in questa partita abbastanza male vabbè già sappiamo che quindi dobbiamo cambiare forse qualcosina anche con la stega di ghiaccio porca la paletta vabbè ah ma ti stai pure incazzando figurati tu ti stai incazzando figurati io vabbè però saremmo andati sicuramente molto bene perché avete visto che gli sgherri lo puniscono abbastanza bene però vi dico la verità non credo di farcela visto che dall'altra parte abbiamo veramente poco forse riusciamo a buttarci giù una torre forse sì, una torre siamo riusciti a buttargliela giù però vi dico la cosa con l'ordine di sgherri il gran cavaliere diventa abbastanza poco vulnerabile e lo so ma tanto qua ci bastano un paio di colpetti e moriamo vabbè era quasi scontato però abbiamo capito alcune cose era questa da questa battaglia possiamo praticamente a questo punto dovremmo variare se non me optare per quest'altra tecnica qua ma tanto capirai cioè lui basta che ci colpisce mezza volta e ci ammazza ho visto che in pratica mettendo va abbastanza bene ma ancora non è morto ah e porca miseria però ce lo fai ammazzare proprio adesso guarda ti dico la verità molto onestamente e sinceramente se perdi io non so come potresti perdere infatti bastava soltanto una cioè bastava uno sfioramento e avremmo perso vabbè non ho cambiato perché hai tenuto in mano così tanto tempo questa partita vabbè ma lasciamo perdere quindi una cosa non l'abbiamo vinta vabbè abbiamo capito personalmente quindi chi toglierei allora vediamo un pochettino se ci conviene a questo punto allora però io ero soddisfatto forse toglierei vediamo un pochettino se ci conviene forse perché per attaccare il gran cavaliere così sgherri andiamo abbastanza bene forse non lo so io proverei a fare un'altra partita sono soltanto indeciso sulla tronco proviamo a fare un'altra partita magari quello era forte magari ma non credo anche se dico la metaforza abbiamo utilizzato male le nostre carte comunque allora già iniziamo già da subito che ci attacca da quest'altra parte va bene non fa niente il gran cavaliere non ci esce se lui ci attacca di qua noi proviamo a vedere se riusciamo altrimenti ad attaccarvi un pochettino da qua ok siamo andati abbastanza bene da questa parte perfetto ci mettiamo anche la tronco e magari vediamo se riusciamo a difenderci comunque siamo andati abbastanza bene tra l'altro poi se riesco se riesco ok facciamo così che palle ok se il cavaliere riesce ad arrivare un pochettino sotto un colpo grande cavaliere ecco così ti piace il cavaliere lui c'ha questo mi fa piacere che in pratica sia io che lui ancora non abbiamo utilizzato il gran cavaliere questo mi fa capire che in pratica non ci conviene ancora potremmo a questo punto lui c'ha lui da dietro è quasi morto praticamente quindi non ci conviene utilizzarlo da qua io direi di utilizzarlo e lui di qua magari ci difendiamo un attimo grande perfetto siamo riusciti ad arrivare sotto e questo mi fa molto piacere ok che peccato attenzione alla strega notturna che se arriva sotto ci frega alla grande ok proviamo a fregarcelo un attimo ah che qua siamo stati sfortunati ho pure sbagliato perché se avessimo se fosse riuscito a difendermi bene vabbè comunque siamo riusciti a beccarlo dall'altra parte grande grande cavaliere ok ci siamo difesi bene perfetto quindi a questo punto attacchiamo di qua sperando che riusciamo a far arrivare sotto grande ok bravo ragazzo perfetto attenzione qui all'omino che ci rompe alle scatole ma noi ce la facciamo alla grande perfetto vai vediamo se riusciamo col gran cavaliere ad attaccare sotto io direi di sacrificare la torre che lui sta dall'altra parte non ce ne frega proprio proviamo a vedere se riusciamo e vai dai dai aspetta vabbè abbiamo vinto però speravo almeno di arrivare sotto aveva avuto quindi un buon sentore che in pratica non era poi tanto male come deck forse non so sono ancora indeciso se cambiare qualche cosa e sul cambiare qualche cosa vi direi di togliere forse la tronco il problema è che la tronco è due gli adesir quindi se proviamo a togliere qualche cosa chi potremmo mettere non lo so in questo momento sono troppo indeciso e non lo so anche perché vorrei mettere anche lo stregone questo qua elettrico però è 4 vabbè andiamo così tanto ci potrebbe andare male o ci potrebbe andare bene come prima ok mi fa piacere che in pratica che palle le carte così non mi piacciono le facciamo un pochettino girare mamma mia porca miseria ok cioè praticamente così ci stai dicendo non ti voglio far giocare ok bravo colpisci da quest'altra parte spostati di qua allora facciamo così proviamo a mettere lui di qua forse sarebbe stato meglio mettere la tronco dall'altra parte forse vabbè eh però gli scheletrini gli fanno poco e niente perché avete visto cioè di solito gli scheletrini fanno più danno e invece stavolta hanno fatto di meno secondo me col gran cavaliere gli sgherri vanno molto meglio no 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 cazzo ho sbagliato porca miseria il problema è che se ce li frega così dai 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 no buttiamo giù sta torretta forza 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 ok andiamo alla grande abbiamo sbagliato perché in pratica vediamo se riusciamo grande dovresti farci perché sei anche super inseguro aspetta 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 vediamo se ce la facciamo così un po' lo recuperiamo grande 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 dai colpite 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 bravi ragazzi bravi così vi voglio aggressivi vi voglio aggressivi aia no 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 aspetta aspetta non mi muovete ok la torre l'abbiamo persa e va bene così allora direi non fa niente che ti sposti di qua andiamo dall'altra parte lo distraiamo ok purtroppo non ce l'ho fatta di qua ammazza ragazzi quanto ce ne stanno mettendo ok sono riuscito a fregare dall'altra parte allora guarda lo stagone come se lo comporta bene con gli sgherri non dovremmo avere problemi gli diamo comunque una mano perché lui sicuramente ci butterà le freccette no non ce le ha buttate meno male ammazza ragazzi che avete fatto ah usi la stessa tecnica di prima attenzione che se riesce ad arrivare sotto in it ti siamo fregati ok da là ce la possiamo fare forza ragazzi forza allora mi difendo aia e forse non ce la faccio perché adesso lui attacca da là niente da fare no 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 che palle vabbè non fa niente che peccato pensavo di riuscircela di riuscirci a fare però purtroppo però ho visto che il gran cavaliere tiene testa agli scheletrini o forse magari i suoi scheletrini facevano schifo non li ho visti bene ultima partita se perdiamo perché se vinciamo possiamo andare avanti provarei a questo punto a cambiare togliere la tronca non ce ne frega proprio magari proviamo dai non è che mi convincano tanto tra l'altro poi li sto anche utilizzando ma semplicemente perché ce li ho a livello alto mi becco la stagia notturna vai ci facciamo del male fisico deck pesante vediamo se riusciamo a farcela lo problema è che partiamo sempre male ok tipo come sempre come in questo caso va bene ok non fa niente e vediamo un po' c'hai questo c'hai che bello allora proviamo a difenderci dall'altra parte e vediamo se ce la facciamo allora facciamo così ti metto gli sgherri di qua ah c'hai anche dall'altra parte ammazza ragazzi vi siete schiantati proprio da là porca miseria vediamo un po' se riusciamo a difenderci da qua ok la torre è partita ed è andata fantastico mi fa piacere e anche tanto ci siamo difesi difesi bene però lui è arrivato veramente fin sotto all'altra parte non me l'aspettavo speravo di riuscire ad arrivare molto più sotto va bene non fa niente adesso siamo un pochettino fregati perché per adesso non c'ho praticamente niente a meno che non riusciamo ad arrivare con gli sgherri qua sotto va bene non fa niente e capirai lui riesce comunque a metterci anche l'altro miseria ok vai niente da fare no non ce la facciamo allora provo a questo punto colminatore a guadagnare un pochettino di tempo anche se secondo me siamo stati un pochettino troppo precipitose uso mamma quanto voglio questo vediamo se ce la facciamo di qua no siete due a che stiamo di qua niente non so se a questo punto porca miseria eh ma non ce la facciamo perché in pratica lui da qua ci attacca in continuazione e praticamente non ce la facciamo vediamo un po' se riesco se riesco ma non credo proprio vai se riusciamo praticamente ad attaccarlo di qua aspetta perché una torretta siamo riusciti comunque a fare se il nostro cavaliere riesce con gli sgherri anche da quest'altra parte a fregarlo un pochettino potremmo anche un pochettino farcela ma non credo anche se dall'altra parte eh non siamo messi male aspetta un po' che peccato che peccato adesso mi dovrei difendere e anche bene non so se ce la facciamo aglia aspetta ah che peccato guarda lì guarda lì guarda era una partita che sembrava persa però poi alla fine ci siamo riusciti un pochettino a recuperare però poi dopo la fine l'abbiamo persa lo stesso capirai che ve lo dico a fare vabbè dai non è che siamo andati tanto male ero partito con un deck lo potevamo anche cambiare però poi dopo ho visto che non è andato bene che ci esce royale arcieri vabbè ci abbiamo provato magari proveremo a portarvi un'altra sfida fatemelo sapere sotto nei commenti se vi può far piacere cerchiamo magari in settimana di portarlo un'altra parte anche se ci sono 100 gemme da spendere non fa niente ho fatto un pochettino di carico detto questo naturalmente come è stato un video come se vi mette un piacere il super commento mi piace fatemi sapere la vostra noi ci vediamo nel prossimo video e bye bye